I impianti sportivi e San Paolo sono tutte facce della stessa medaglia. Naturalmente il tema del San Paolo è un tema molto interessante per i cittadini di Napoli e per i tifosi del Napoli. Potrebbe generare una grande ricchezza, questo è il tema su cui si dibatte. A differenza degli altri impianti sportivi che possono essere un costo e un'opportunità sociale, il San Paolo è un'opportunità sociale e un'opportunità economica per la nostra città. La mia posizione personale del gruppo di Forza Italia è mettere in vendita lo stadio, al miglior offerente secondo procedure di evidenza pubblica. Mettere lo stadio significa generare ricchezza per i cittadini napoletani con quei soldi poter immaginare di costruire a est, a ovest e a nord della nostra città altri impianti sportivi per i cittadini e concedere alla società sportiva Calcio Napoli l'idea di sviluppare un progetto imprenditoriale che possa creare un indotto di circa mille posti di lavoro. è stato studiato da alcuni commercialisti che sostengono che si possa creare un indotto di mille posti di lavoro intorno a uno stadio efficiente ed europeo. San Paolo deve rimanere pubblico, è il primo impianto comunale sportivo e deve rimanere pubblico. Deve essere messa in atto una nuova convenzione col Calcio Napoli che tenga maggiormente conto delle esigenze del comune piuttosto di quelle della società perché è un patrimonio del comune di Napoli, quindi di tutti i cittadini napoletani. In questa nuova convenzione non devono essere commessi gli errori del passato cioè non distinguere bene fra le competenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare sui lavori straordinari non si può scrivere più che il Calcio Napoli possa fare i lavori e può rendicontarli al comune senza che ci sia un controllo, senza che ci sia un accordo su con che prezziario e che modalità eseguire i lavori. Detto questo noi siamo per una convenzione che venga stipulata fra il Calcio Napoli e il comune di Napoli e gli indirizzi devono passare per forza in Consiglio Comunale. Questo vuol dire che non si può tenere solo un tavolo di contrattazione fra Amministrazione Comunale e Calcio Napoli ma si deve passare per forza attraverso le commissioni consigliari, in questo caso quella Sport per definire gli indirizzi che si vogliono dare all'amministrazione per andare poi dalla società Calcio Napoli a definire la nuova convenzione. Comunale Comunale